L'alma Juventus Fano risolve la pratica fermata nel primo tempo con tre reti di presevole fattura e si avvicina alla vetta blindando intanto il secondo posto con il favore dei cugini Vissini che sbancano a San Beneretto ma la notizia del giorno è il pareggio del Chieti al Elvia Reci. Una grande alma, un'ottima squadra ben messa in campo dal mister Marco Alessandrini che non trema di fronte a una Fermana che ci prova ma troppa la differenza di caratura. Fermana che poi tra l'altro deve fare a meno anche dei infortunati Mising di lungo corso e Pedalino la squalifica per due giornate. Si sentirà tanto l'assenza dell'attaccante napoletano. Un saluto della cronaca al settimo Valdes per la Fermana il tiro respinto da Clemente. A goa la Fermana insiste, buon avvio dei Canarini alla decena minuto Omiccioli il tiro da fuori dell'ex Granata. Il tiro è fuori al tredicesimo e l'alma che si fa vedere con Nardini che avrebbe una buona occasione ma il tiro termina a lato. Quale un momento che lo aspetti è la prima vera occasione e l'alma che passa, corner da sinistra di Borrelli, la testa di Gucci che va ad esultare sotto la curva. Nono gol stagionale per il Re Leone, ventiquattresimo il raddoppio con Sevilla Maravilla che si beve mezza difesa Canarina e poi mette in rete alle spalle dell'incolpevole Savut. Sevilla che si ripete al trentaseiesimo lanciato dalle retrovisi, poi andando sopra davanti a Savut e di denso, sul piede preferito, calcia sul primo palo. Davvero un tiro di rara potenza e anche qui esultanza sfrenata per il Popolo Granata in visibilio, Fermana che non fa male, c'è solo l'alma e potrebbe fare poker. La formazione di mister Alessandrini alla trentanovese, una punizione di Borrelli, Sevilla liberissimo all'altezza del disco del rigore, calcia alto sopra la traversa. Robeda portarsi a casa il pallone per Andrea Sevilla che è arrivato a quota 17, Bomber Amodeo è avvisato, 41esimo Omiccioli al tiro dal limite. La parata di Ginestra prova a rendere meno amaro il pomeriggio per i suoi compagni giallo-blu ma nel finale è ancora l'alma con Lunardini che con Savut fuori dai pali si orava ancora il quarto gol. Allo secondo tempo pura Accademia con Valdessa al ventitresimo che aveva la palla buona per riaprire la partita ma Ginestra lo anticipava. Il tiro dell'attaccante sudamericano terminava alto, proteste timide in verità per i giallo-blu. Trentacinquesimo usciva Sevilla appauditissimo dal pubblico, entrava Danny Carsetti, Beniamino di casa. Ovazione per l'attaccante di Guglionesi, anche oggi imprendibile. Quarantunesimo la fermana ci provava, punizione di Valdessa ma la barriera respingeva e l'unico tiro, possiamo dirlo, nello specchio della porta lo effettuava al cinquantesimo. Lander Agostinelli chiamando Ginestra alla parata importante sul incrocio dei pali. Finiva 3-0 e l'Alma si godeva oltre che il meno 4, la difesa meno perforata del Gironi. I migliori in campo sicuramente Sevilla per il Fano ma ottime le prove anche di Marconi e Favo nella fermana. C'è poco da salvare, forse magari stranieri per il tanto impegno. Uno dei pochi a non mollare. Marco Alessandrini, primo tempo dove avete chiuso la pratica fermana, poi secondo tempo dove si è controllato agevolmente. Sicuramente la notizia più bella o meglio le notizie più belle sono avute dagli altri campi con il pareggio tra Maceratese e Chieti e la vittoria della Vispeso sulla Samba. Si riapre il campionato, tu ci hai sempre creduto anche quando eravate a meno 8. La notizia più bella è che abbiamo vinto 3-0 contro una fermana che era venuta sicuramente per crearci delle difficoltà come lo ha fatto, come l'aveva fatto con tutte le squadre. Non dimentichiamo che con Iaconi non aveva mai perso fuori casa e di conseguenza spesso vinto. Ah, è spesso vinto, perciò aver chiuso una partita nel primo tempo è indice di convinzione, di forza e anche di qualità perché abbiamo fatto anche delle buone cose. Poi è normale che forse a volte ci adeguiamo troppo a una ripresa, però insomma si può anche giustificare. Avevamo degli ammoniti, avevamo dei giocatori che avevano anche paura a giocare, però nel primo tempo avevamo fatto veramente contro una compagine che era venuta per non permetterti di giocare. Perciò non concedendoti tanti spazi e aver fatto tre gol, è indice di forza e anche di qualità. La squadra è in forma smagliante, se si è vinto è bene anche nel campo, diciamo che come quello di Civitanova è un po' difficile anche per via della pioggia. Evidentemente è il vostro periodo, la squadra sta ritrovando lo smalto dei giorni migliori. Sembrerebbe che magari qualcun altro forse non lo sia più ed è per questo che ora è più avvincente la lotta per la vittoria delle campioni. Noi commettiamo un errore se cominciamo a guardare la maceratese, l'assemblea delle tese o altre compagini. Noi dobbiamo fare la cosa su noi stessi, stiamo facendo un ottimo campionato. Quello che ci preme, che ci interessa più di tutti è questo rapporto con la tifoseria, con tutto sia della curva, che sono sempre stati vicinissimi, ma anche con l'altro ambiente. Perciò conquistare un ambiente penso che è come vincere i dieci campionati, perciò il nostro premio è quello, non è che ci deve interessare in questo momento altre cose. Dobbiamo continuare, quante partite sono rimaste? Sei? Sei. La prossima sarà difficilissima, abbiamo squalifiche, abbiamo infortuni, perciò non è che ci regala niente nessuno e dobbiamo ricominciare anche giovedì a prepararci nel migliore dei modi. Io ho visto solo degli highlights, il Fano non avevo affrontato l'andata, devo fare i complimenti a questo Fano perché merita sicuramente dove sta e sta bene anche perché va ad insediare quello che può essere la maceratese. Noi diciamo che per 20 minuti i ragazzi avevano svolto bene il compito, così riuscendo a non far tirare mai in porta il Fano. Poi quella palla inattiva su calcio d'angolo ha cambiato i valori in campo, anche se sono visti poi i veri valori che poteva mettere in campo il Fano rispetto magari al nostro. Non abbiamo tirato il remi in barca, però è chiaro che poi Sivilla, ai quali bisogna fare i complimenti, mi pare che giustamente viene accreditato per categorie superiori sicuramente. Questo è un giocatore molto molto importante per questa categoria, non ha niente a che vedere. Ha fatto veramente tutto da solo, finché non ha trafitto South. Poi è chiaro, nella ripresa ci siamo ripresi un pochino, ci è stato un po' più di coraggio, un po' più di baltanza da parte nostra, però abbiamo solo messo in difficoltà il Fano senza riuscire a fare gol. Grazie.